Sono Stefano Montana e da più di 4 anni mi occupo di e-commerce e di social media marketing ovvero gli strumenti fondamentali che mi hanno permesso di generare oltre 2 milioni di euro in vendita online e tutta la conoscenza e l'esperienza acquisita nel corso di questi anni ho deciso di metterla a disposizione nel programma avanzato Montana Dropshipping Formula che è semplicemente un piano comprovato passo dopo passo per iniziare a scalare il tuo business di dropshipping e andare in profitto in meno di 24 ore al suo interno troverai oltre 15 ore di lezioni video ideate per aiutare le persone che partono da zero a creare il proprio business di dropshipping profittevole è incluso ovviamente l'accesso a vita al gruppo di supporto all'interno del quale io e il mio team aiutiamo direttamente tutti i membri tutto viene insegnato attraverso casi studio ed esempi reali ovviamente oltre ai video registrati sono inclusi anche fogli di lavoro, modelli e file di lavoro in modo tale da velocizzare il processo di apprendimento la piattaforma ovviamente è accessibile 24 ore al giorno 7 giorni su 7 365 giorni l'anno da qualsiasi piattaforma e da qualsiasi dispositivo oltre alle video lezioni sono inclusi fogli di lavoro, modelli, file di lavoro in modo tale da velocizzare il processo di apprendimento la piattaforma è accessibile 24 ore al giorno 7 giorni su 7 365 giorni l'anno da qualsiasi piattaforma e da qualsiasi dispositivo il coaching di gruppo, le live stream e accesso a vita a tutta la comunità tramite il gruppo facebook ma per dare forma a tutto quello che andrò a insegnarti avrai bisogno di qualcuno che ti aiuta direttamente ed è proprio per questa ragione che ho creato la coaching di gruppo, le live stream e l'accesso a vita a tutta la comunità del gruppo facebook un team di supporto 24 ore al giorno 7 giorni su 7 365 giorni l'anno il quale è stato progettato unicamente per insegnarti a guadagnare con l'e-commerce quindi io ed il mio team andremo a aiutarti direttamente e per qualsiasi tipo di domanda relativa all'e-commerce noi saremo lì a darti una mano ora ti starei chiedendo qual è il momento migliore per iniziare il momento migliore in assoluto per iniziare è adesso come puoi vedere da questo grafico il settore dell'e-commerce è in continua ascesa nei prossimi anni non farà altro che aumentare le vendite online aumenteranno di anno in anno e questo è un dato assoluto e oggettivo che indica semplicemente come l'e-commerce sia il business online migliore in assoluto da imparare, da padroneggiare ma soprattutto da sfruttare per portarci dei guadagni reali in quanto l'obiettivo numero uno del programma avanzato Montana Dropshipping Formula è semplicemente portare risultati reali alle persone ed è qui che Montana Dropshipping Formula riesce a trasformare risultati reali in guadagni veri e propri esattamente come è successo per questo ragazzo che non solo giorno è riuscito a generare 500 dollari grazie a Shopify e il suo negozio online come puoi vedere le dashboard con tutti gli ordini come puoi vedere anche quest'altro risultato ottenuto sempre su Shopify attraverso un negozio online quattro ordini in pochi minuti un ordine addirittura a 308 euro tutte le altre recensioni e testimonianze di tutti coloro che hanno fatto parte del mondo di Stefano Montana e di Montana Dropshipping Formula le trovi qui sotto questo video scorrendo la pagina trovi centinaia di video e di screenshot e di dashboard di persone che hanno ottenuto risultati reali andando avanti qui troviamo un altro ragazzo di 17 anni che in un solo mese è riuscito a generare 5000 euro di vendite con il suo negozio online addirittura questo ragazzo partendo da zero in appena 29 giorni è riuscito a fatturare 5400 euro con una spesa pubblicitaria in Facebook Ads di solamente 800 euro quindi un guadagno incredibile avvenuto con l'e-commerce ma qual è la formula vincente per avere successo con l'e-commerce? la prima cosa in assoluto è essere seguiti da un vero e proprio esperto ovvero da un mentore che abbia ottenuto dei veri risultati sul campo e che possa fornirti delle informazioni di qualità elevata che ti possano permettere di avanzare a livello successivo per quanto riguarda il tuo business di e-commerce e che abbia a disposizione un processo collaudato passo dopo passo che puoi implementare partendo da subito nel tuo business online attraverso ovviamente una coaching di supporto diretto il mentore andrà ad aiutarti direttamente e sarà in grado di rispondere a qualsiasi tua domanda relativa all'e-commerce e ovviamente una cosa fondamentale se non la più importante è prendere spunto da casi studio di successo ovvero da business che hanno veramente ottenuto risultati eccezionali e da quali puoi carpire le migliori informazioni e le migliori strategie di marketing chi sono io? Sono Stefano Montana e nel 2016 ho iniziato questo mio percorso nell'e-commerce completamente perso partendo da zero e con pochissimo denaro in tasca dopo appena un anno sono uscito a generare più di 100.000 euro nel 2018 300.000 euro nel 2019 addirittura più di un milione di euro in vendita online nel 2020 ho creato la mia agenzia di marketing leader nel settore dell'e-commerce branding quindi specializzata nell'aiutare le persone a sviluppare il proprio business di e-commerce e a ottenere risultati notevolmente superiori rispetto a qualsiasi altro competitor come puoi vedere più di 2 milioni di persone guardano i miei video e sono orientate verso un obiettivo comune ed è proprio per questo che ho deciso di creare una community di persone con l'obiettivo di guadagnare e di cambiare la propria vita attraverso l'e-commerce e il dropshipping ed è proprio per questa ragione che io e il mio team siamo focalizzati nell'aiutare persone di qualsiasi età a raggiungere i propri sogni e oltre al mio canale ho messo a disposizione anche il mio sito web montanabusinessonline.com dove condivido tantissime informazioni di qualità elevata e soprattutto alcuni dei miei risultati ottenuti con l'e-commerce e il dropshipping tutto questo non solo per dimostrare una massima trasparenza nei tuoi confronti ma soprattutto per dimostrarti che tutto questo è possibile ovvero generare 267.025 dollari con 3 app di Crossella Upsell sempre sul nostro sito Shopify e addirittura 970.349 dollari grazie a 3 diversi negozi Shopify grazie all'e-commerce e al dropshipping tutto questo è spiegato in maniera dettagliata e passo dopo passo nel montana dropshipping formula attraverso quattro principali categorie e moduli che tu devi seguire alla lettera per raggiungere il successo la prima cosa che andrai a studiare sono le basi per il tuo successo con l'e-commerce che cosa devi capire per avere successo sin da subito con il tuo business di dropshipping successivamente andremo a creare un'offerta vincente ovvero andremo a prendere un prodotto che già sta vendendo quindi senza reinventare la ruota e partendo da un business che già funziona andremo a modellarlo per andarci a prendere la nostra fetta di guadagno e in particolare dovremmo padroneggiare in assoluto il social media marketing ovvero la pubblicità attraverso Facebook, Instagram e tutti i social media che oggi giorno sono fondamentali per generare vendite online infine andremo ad espandere il nostro brand una volta che avremo automatizzato tutto il nostro negozio e-commerce in dropshipping dovremo solamente espandere il nostro brand in tutto il mondo per aumentare le vendite a dismisura e qui voglio mostrarti opinioni di studenti che subito dopo essere entrati in montana dropshipping formula sono usciti già a moltiplicare le proprie vendite in appena due giorni addirittura a generare 163 euro netti tutto questo perché vado a spiegare un metodo comprovato che si sviluppa in due fasi principali la prima è la fase di lancio ovvero nei primi tre moduli vado a spiegare esattamente come un completo principiante può andare in profitto con il proprio business di dropshipping in meno di 24 ore esattamente come è successo per quest'altro studente ha lanciato nei top 4 a mezzanotte risultati live quindi in appena 28 minuti con il sistema comprovato montana dropshipping formula è riuscito già ad ottenere due vendite in appena 28 minuti a chi è rivolto il programma avanzato montana dropshipping formula? prima di tutto ai principianti che non hanno mai creato un negozio online ma anche agli esperti che vogliono scalare il loro business grazie alle strategie più avanzate in assoluto devi eseguire alla lettera tutte le istruzioni che ti metta a disposizione all'interno del programma devi essere capace di metterti in azione fin da subito e devi avere la motivazione giusta per voler cambiare la tua vita ora andiamo a dare un'occhiata all'interno del programma avanzato attraverso la lista delle lezioni presenti in ogni modulo del nostro programma avanzato prima di tutto le basi per il tuo successo con l'e-commerce che cosa bisogna sapere per iniziare questo corso i fondamenti facebook ads come funziona e come le possiamo sfruttare per il nostro business la mentalità che dobbiamo ottenere e sviluppare per avere successo con il dropshipping e con il suo modello commerciale e ottenere una motivazione infinita attraverso uno sviluppo della produttività quindi una mentalità vincente che ci permetterà di essere in vantaggio rispetto agli altri venditori online e ovviamente trovare un prodotto vincente in modo rapido ed economico successivamente andremo a creare la nostra offerta andiamo a selezionare la nicchia dalla Z andremo a cercare il prodotto perfetto che sappiamo già sta vendendo e che possiamo sfruttare per creare un business attorno a lui vincente andremo inoltre a studiare delle tecniche e delle strategie per convertire il più possibile i nostri annunci in vendite attraverso un marketing strategico e soprattutto andremo a spiare i concorrenti che cosa sta funzionando per replicarlo e migliorarlo e infine progettare un back-end estremamente potente per aumentare il valore medio di ogni ordine e incrementare quindi i profitti massimizzando il tuo tempo libero e automatizzando il tuo negozio mentre nel modulo Social Media Marketing Mastery andremo a studiare nel dettaglio le basi e le funzionalità dello strumento pubblicitario per eccellenza ovvero Facebook. Il segreto per scalare il pubblico simile che si può creare all'interno di Facebook come si può creare il retargeting ovvero il pubblico personalizzato che già ci conosce che può essere retargetizzato fare esplodere vendite con Facebook, Google, Instagram qualsiasi tipo di social media presente tuttora al momento può essere sfruttato per generare più vendite e quindi portarci più guadagni analisi precisa dei risultati promozionali Snapchat, TikTok, YouTube qualsiasi tipo di social media noi lo andiamo a sfruttare e criteri che garantiscono la promozione di successo con Instagram e successivamente ai tre moduli andremo ad implementare la fase numero due ovvero la fase di espansione che è ideata unicamente per permettere alle persone che hanno già ottenuto i risultati di scalare per parecchie migliaia di euro al mese grazie all'aiuto delle strategie più avanzate in assoluto e con il modulo espansione del brand andremo a creare il sito che converte al meglio dal punto di vista del tasso di conversione quindi andremo a creare e massimizzare un sito e-commerce per aumentare le vendite non solo a livello globale e in diverse lingue il potere delle pagine di vendita ottimizzate monoprodotto o multiprodotto attraverso app incredibili che triplicano i tuoi profitti quindi andremo a selezionare esattamente le app migliori che saranno necessarie per portare il nostro negozio e-commerce a livello successivo la struttura del sito che vende è spiegata nei minimi dettagli nel modulo espansione del brand e il piccolo consiglio che raddoppia il tuo valore medio dell'ordine è fondamentale per farti guadagnare di più per ogni singolo cliente quindi gestire le tue vendite in completa tranquillità ottenere le tue prime vendite gratuitamente attraverso le strategie che andremo a discutere all'interno del programma avanzato e soprattutto come trovare i tuoi fornitori per il tuo private label che è il livello successivo ma cosa succede esattamente quando riusciamo ad espandere il nostro brand e a scalare il nostro business semplicemente otteniamo risultati eccezionali come questo studente che ha ottenuto 5.500 euro di vendite in appena un paio di settimane o addirittura 5.000 e passa dollari in appena una settimana con 150 ordini in poco meno di 7 giorni quindi risultati incredibili che possono essere ottenuti solamente attraverso le migliori informazioni ho personalmente studiato dai più grandi formatori e-commerce internazionali pagando attraverso programmi di formazione per un totale superiore alle 6 cifre quindi ho applicato direttamente tutto quello che ho imparato per garantire le più nuove strategie vincenti a tutti i miei studenti e i miei clienti ho ideato le mie proprie strategie che sono disponibili unicamente in Montana Dropship in Formula sviluppate dopo anni di duro lavoro e di studio intenso che hanno permesso non solo a me ma a moltissime altre persone di raggiungere risultati straordinari le centinaia di testimonianze e di recensioni le trovi sotto questo video e danno tutte una cosa in comune si sono impegnati tutti al 100% e hanno approfittato di questa grandissima opportunità che è l'e-commerce esattamente come questo ragazzo che è riuscito a generare in un giorno solo più di 1000 euro di vendite e addirittura raggiungere cifre stratosferiche come 57.000 euro in pochi mesi avrà un supporto durante tutto il tuo viaggio e-commerce al fine di raggiungere i tuoi obiettivi il più rapidamente possibile unisciti a una comunità affiatata di imprenditori di successo condividi con loro fai le tue domande e crea una rete di relazioni che ti cambieranno la vita tutti hanno bisogno di aiuto e consigli quando affrontano nuove sfide ma i veri esperti sono fuori dalla portata della maggior parte delle persone i nostri studenti hanno accesso 24 ore al giorno 7 giorni su 7 365 giorni l'anno agli esperti su facebook domande e risposte settimanali chiamate ed email Montana Dropshipping Formula è la formazione più completa mai creata le strategie più avanzate ed efficaci in assoluto sono presentate dettagliatamente grazie alla consulenza di un moltitudine di tutors e consulenti che hanno generato insieme oltre un milione di euro di fatturato beneficerai delle migliori esperienze e delle migliori strategie per ottenere un risultato superiore ai 100.000 euro abbiamo progettato un nuovo metodo di pensare e di riprogrammare la tua mente così profondo da dare la sensazione di aprire gli occhi per la prima volta le persone di successo impiegano tutta la vita per costruire il loro meccanismo di comprensione mentale abbiamo capito come installarlo in settimane è difficile cambiare la tua vita quando sei insieme a sempre le stesse persone i nostri studenti si uniscono a una comunità mondiale di persone sulla stessa lunghezza d'onda in modo che i sogni non vengano derisi ma raggiunti su base giornaliera questa formazione combina tutte le informazioni che ho acquisito dopo aver speso decine di migliaia di euro per la formazione personale e le tecniche che ho sviluppato come imprenditore e ti svelo tutte le tecniche che funzionano davvero ogni mese aggiorniamo il contenuto della formazione pertanto riceverai regolarmente aggiornamenti sulle nuove tecniche del momento rimarrai competitivo contro la concorrenza e non sarai mai sopraffatto dalla dinamicità dell'e-commerce Montana Dropship in formula non è solo una formazione teorica ma anche un'applicazione pratica e concreta ti mostrerò come creare uno store da zero davanti ai tuoi occhi al fine di vedere in tempo reale ogni passaggio necessario per creare un negozio redditizio avrai accesso a prodotti che scegliamo agli influencers che utilizziamo alle pubblicità che mettiamo in atto e molto altro ancora incredibile qualità dei contenuti la nostra formazione ha permesso alle persone di ogni ceto sociale da origine di diventare finanziariamente indipendente a seguito di uno studio la formazione ha ottenuto un punteggio prodigioso di 4.84 su 5 dai suoi membri vedremo insieme perché vendere prodotti fisici tramite Shopify è il business online più redditizio e descriverò dettagliatamente i motivi per cui l'e-commerce è il business più semplice da creare per un principiante ma anche quello che consente di raggiungere l'indipendenza finanziaria più velocemente l'uso di Shopify e quello dei funnel di vendita sarà spiegato nei minimi dettagli come scegliere la tua nicchia scegliere la nicchia o il prodotto sbagliato è la ragione per cui molti venditori falliscono per questo motivo mi assicuro di spiegarti tutti i segreti che mi permettono di conoscere le nicchie più redditizie e di trovare i prodotti vincenti ogni singolo giorno se dopo ciò il dubbio e l'incertezza persistono ti suggerirò idee e prodotti di nicchia per guidarti nella tua ricerca del successo la formazione include diversi video relativi all'Instagram Influencer Marketing in quanto ti mostrano come trovare, contattare, negoziare e promuovere con successo con gli influencers gran parte del successo con l'e-commerce deriva dalla padronanza delle pubblicità su Facebook ho speso centinaia di migliaia di euro in testo per ottenere questa conoscenza e tutto ciò viene spiegato nei minimi dettagli nel programma avanzato in modo tale da permetterti di creare annunci redditizi sin da subito ho preparato diversi video che ti aiuteranno a creare un back-end super potente grazie alle sequenze email, bot di messaggistica e molte altre tecniche innovative grazie a questo puoi facilmente aumentare il valore di ciascuno dei tuoi clienti questo ti permetterà di schiacciare la concorrenza e aumentare i tuoi profitti e non finisce qui registrerò regolarmente nuovi video aggiuntivi sulle ultime tendenze e sviluppi dell'e-commerce potrai anche richiedere quali video aggiuntivi desideri direttamente dal gruppo di Facebook per email o attraverso la chat di supporto e saranno quindi aggiunti al programma avanzato quindi voglio ricordarti che accedendo oggi al programma avanzato Montana Dropship in Formula avrai a disposizione tutti i seguenti bonus bonus numero 1 accesso immediato a vita a tutto il contenuto del programma avanzato ai futuri aggiornamenti bonus numero 2 accesso alle dirette Q&A grazie alle quali potrai ricevere risposte concrete alle tue domande bonus numero 3 accesso immediato a vita al gruppo di supporto diretto all'interno del quale riceverai assistenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7 che è un tassello fondamentale di qualsiasi persona che vuole avere successo con il proprio business online e-commerce in dropshipping invece pensa un attimo a quanto ti costa fare tutto in solitudine per capire tutte queste informazioni e poter configurare il tuo business di e-commerce il modo giusto potrebbero essere necessari dai 3 ai 10 anni della tua vita potresti fallire miseramente senza neanche capirne il motivo dovrai provare migliaia di cose in solitudine senza avere idea di cosa funzioni e cosa no e dovrai impararlo dopo numerosi costosi e dolorosi errori per ottenere la giusta mentalità e cambiare il tuo paradigma mentale potresti avere bisogno di decenni sopportare una quantità terribile di dolore quando la tua vita potrebbe essere vissuta tranquillamente senza angoscia costruire una rete di supporto e una comunità di persone come questa richiederebbe anni ed è proprio per questa ragione che il gruppo di supporto rappresentato da me ed il mio team rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento del tuo successo con l'e-commerce in quanto ci sono voluti ben 3 anni per coltivare una comunità di tale livello mettendoci il mio cuore, la mia anima ogni singolo giorno pensa al vero costo che sarebbe necessario per raggiungere questo obiettivo sono centinaia di migliaia di euro e decenni di tempo e sicuramente tutto questo potrebbe non essere sostenibile per te e come dimostrazione di quanto lavoro e quanto sostegno mettiamo all'interno del gruppo privato Montana Dropship in Formula qui è una dashboard con una crescita ovviamente dei membri totali ma soprattutto i 5.292 post, commenti e reazioni che rappresentano veramente il supporto che noi ogni giorno diamo per tutti coloro che fanno parte del programma avanzato Montana Dropship in Formula e mi preme ricordarti che l'obiettivo finale del programma avanzato e del gruppo di supporto è unicamente quello di renderti libero o libera finanziariamente e proprio come è successo per moltissime persone entrate a far parte della nostra famiglia anche tu puoi raggiungere i tuoi obiettivi indipendentemente dal tuo sesso, dalla tua età e dalla tua area geografica di provenienza il momento di agire è adesso l'unico modo di perdere tutto questo è di non passare all'azione adesso non potrai più approfittare di questa offerta eccezionale che ti sto mettendo a disposizione oggi perderai la possibilità di ricevere tutti i bonus rimarrai con il rimpianto di non aver fatto nulla e guarderai il successo di tutti coloro che hanno approfittato di questa opportunità incredibile oggi e fra un anno ti ritroverai esattamente nella stessa posizione senza aver cambiato nulla nella tua vita quindi l'unica cosa che devi fare adesso è dare una svolta alla tua vita mettendoti in azione vai qui sotto, premi il pulsante verde ed accedi ora al programma avanzato Montana Dropship in Formula ci vediamo dentro